Il sistema Solatube è fatto con una cupola brevettata, Raybender 3000, un sistema avanzato di lenti che cattura i raggi solari da tutti gli angoli e scarta i raggi che surriscaldano. Il Solatube Spectralight, fatto con il materiale più riflettente al mondo, trasferisce la luce fino a 12 metri e la distribuisce all'interno della casa con i diffusori Solatube che uniscono la bellezza del vetro alla luminosità della luce solare.